Allora, intanto complimenti mister, una partita ben interpretata dal punto di vista tecnico e tattico. Sì, direi che l'avevamo letta bene in settimana e direi che il campo ha fatto in modo di far vedere che quello che avevamo parlato in settimana e di quello che avevamo provato sul campo si è rivelato tale. Quindi direi che è una partita attenta dall'inizio, molto compatti e allo stesso tempo alla prima occasione abbiamo fatto in modo di sbloccare la partita. Poi dopo i ragazzi hanno resistito nella lotta, nel sacrificio e poi dopo il secondo tempo abbiamo fatto in modo di chiuderla. Ecco, manteniamo i piedi per terra come dici sempre, però è stato fatto un altro passo verso il traguardo. Sì, giusto. Adesso da martedì penseremo alla nuova trasferta, però devo fare i complimenti ai ragazzi perché vincere qua a Belluno contro la terza forza del campionato e fare una prestazione sotto l'aspetto di concentrazione, di applicazione e di sostanza direi che non è poco e quindi era molto molto importante portare a casa i tre punti e direi che oggi sul campo ce lo siamo meritati. Anche perché adesso comunque ci sono sei partite in casa e quattro fuori, può essere un vantaggio? No, intanto c'è quella in casa con l'Arzegnano, poi dopo vedremo... In totale, dici? Sì, 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 no, Begola senz'altro, ma non bisogna dare per scontato che giochi in casa o gioca fuori. Noi forse, adesso se non sbaglio, le statistiche dicono che abbiamo fatto meglio fuori che in casa, quindi cerchiamo di continuare e di migliorare quello che facciamo in casa. Non ti piace parlare dei singoli, però un commento te lo chiedo sia su Thomassen sia su Amirante, terza doppietta? Beh, su Thomassen ho sempre detto che è uno dei due centrali, perché i centrali ne sono tre, quindi per me rientra, tutte e tre rientrano ogni due. Non è facile rimanere fuori e farsi trovare pronte, quindi direi che Dan, Segato e lo stesso Amirante hanno fatto in modo di farsi valere e quindi complimenti a loro.